E come potete vedere Napoli oltre la sua bellezza che rispende un po' solo raggiante, possiamo vedere anche che qualche d'uno si sta dedicando un po'. E come potete vedere Napoli oltre la sua bellezza di Napoli oltre la sua bellezza di Napoli oltre la sua bellezza di Napoli oltre la sua bellezza. E come potete vedere la città passanofea oltre che a essere illuminata da questo splendido sole raggiante, c'è qualche d'uno che pensa bene di rallegrare un po' l'ambiente. Ma non si è spiegato, non si è spiegato così. C'è il cantante nostro, o lo fa per soldi o lo fa sì perché ti piace cantare, fa la canto via, non è che se ne è. Tranne gli artisti proprio, no? No, no, prendi un ragazzino di strada e lo metti con un ritrovo in mano e lo canta e balla. No, 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 non è che se ne è. Grazie a tutti.